Nel quartiere simbolo del degrado di Napoli, conosciuto nel mondo come il più grande droga shop all'aperto d'Europa, Luigi De Magistris fino ad oggi c'era entrato solo in campagna elettorale. La prima volta da sindaco questa mattina per un incontro con gli alunni della scuola Elaria Alpi di Viale della Resistenza. Una giornata di festa per i piccoli studenti che hanno accolto il primo cittadino con alcuni spettacoli musicali e con la presentazione di un progetto sul tema della legalità. Gli stessi ragazzi attendono ora da De Magistris il rispetto degli impegni presi durante la campagna elettorale, ovvero il rilancio etico e sociale dell'intero quartiere. In compagnia del prefetto di Napoli, De Martino, il sindaco De Magistris si è poi recato su segnalazioni di alcuni insegnanti della scuola a visitare il campo nomadi che si trova proprio fuori dalle aule dell'Ilaria Alpi. Ad alcuni capi famiglie dell'accampamento, che come si vede dalle immagini versa in gravi condizioni di degrado, De Magistris ha assicurato il suo impegno per porre fine allo stato di abbandono del campo, favorendo l'integrazione delle 400 famiglie rom che ci vivono.